Il marito della principessa Beatrice, Edoardo Mapelli Mozzi, ha condiviso una splendida foto della loro vacanza sugli sci in famiglia, la coppia questa settimana ha visitato la stazione sciistica svizzera di Verbie con la piccola Sienna e il figlio di Edo Wolfie. A loro si unirono anche Sarah Ferguson, la principessa Eugenie, Jack Brooksbank e il piccolo August per la gita sugli sci. Edo ha condiviso uno sguardo sulla vacanza in famiglia mentre ha preso le sue storie su Instagram venerdì. Il promotore della proprietà ha pubblicato uno straordinario scatto di alberi innevati contro il cielo notturno. Il suo aggiornamento su Instagram arriva dopo che la coppia è stata avvistata mentre si godeva le vacanze a Verbie. Edo è stato raffigurato mentre spinge Sienna in una carrozzina su una montagna innevata mentre Beatrice cammina con il figliastro Wolfie. Che lei chiama il suo figlio Bonus, all'inizio di questa settimana, anche la duchessa di York, Eugenie e suo marito Jack sono stati visti in giro durante il viaggio. La famiglia si è diretta al loro chalet sulle piste svizzere il giorno di Santo Stefano. Il principe Andrège, che sta affrontando una causa per sesso civile contro di lui, non si è unito, la pausa arriva dopo che Beatrice ed Edo hanno accolto la figlia a settembre. Beatrice è già la matrigna del giovane figlio di Edo Wolfie, dalla sua precedente relazione con la sua ex fidanzata Dara Huang. La coppia non ha ancora condiviso uno scatto della piccola Sienna, con i fan reali che hanno solo dato un assaggio delle impronte dei piedini del piccolo, l'arrivo di Sienna è arrivato mesi dopo la nascita del primo figlio di Eugenie e Jack, a febbraio. . Beatrice ed Eugenie saranno felici di avere i loro figli così vicini per età e di condividere l'esperienza di essere madri per la prima volta. Beatrice ed Edo si sono sposati in un matrimonio di blocco a basso profilo nel luglio 2020. La coppia si è fidanzata durante un fine settimana in Italia dopo una vorticosa storia d'amore. Le famiglie di Beatrice ed Edo si conoscono da anni e hanno iniziato a frequentarsi nell'autunno del 2018 dopo essersi incontrati di nuovo al matrimonio di Eugenie e Jack.